Tumore al pancreas, i 5 sintomi da non sottovalutare. Il tumore al pancreas è una condizione grave e spesso difficile da diagnosticare nelle sue fasi iniziali, a causa della genericità dei sintomi. Esploreremo 5 sintomi comuni del tumore al pancreas, aiutando a sensibilizzare sulle potenziali segnalazioni di questa malattia. Dolore addominale e mal di schiena. Uno dei sintomi più comuni del tumore al pancreas è il dolore nella parte superiore dell'addome che può irradiarsi verso la schiena. Questo dolore può variare da un disagio lieve a un dolore acuto e persistente. In alcuni casi, il dolore può essere più intenso quando la persona è sdraiata o dopo aver mangiato. Ittero Il tumore al pancreas può causare ittero, una condizione caratterizzata da ingiallimento della pelle e degli occhi. L'ittero si verifica quando il tumore blocca il dottobiliare, impedendo alla bile di raggiungere l'intestino e causando un accumulo di bilirubina nel sangue. Oltre all'ingiallimento della pelle e degli occhi, l'ittero può causare urine scure e fecichiare. Perdita di peso e appetito Una perdita di peso inspiegabile e una riduzione dell'appetito possono essere segnali di un tumore al pancreas. La perdita di peso può verificarsi anche senza modifiche significative della dieta o dell'esercizio fisico. La sensazione di sazietà precoce durante i pasti è un altro segno correlato che può contribuire alla perdita di peso. Problemi digestivi Il tumore può influenzare la produzione di enzimi digestivi del pancreas, portando a problemi digestivi. Questi possono includere diarrea, nausea, vomito e gonfiore. Alcuni pazienti possono sperimentare anche steatorrea, una condizione in cui le feci diventano oleose e maleodoranti, a causa dell'impossibilità di digerire i grassi in modo adeguato. Diabete di nuova insorgenza In alcuni casi, un tumore al pancreas può portare allo sviluppo di diabete. Questo può accadere quando il tumore interferisce con la produzione di insulina del pancreas. I pazienti possono sperimentare sintomi tipici del diabete, come sete eccessiva, urinazione frequente e affaticamento. È importante notare che questi sintomi possono essere causati anche da altre condizioni mediche meno gravi. Tuttavia, se si sperimentano uno o più di questi sintomi, è essenziale consultare un medico per una valutazione approfondita. La diagnosi precoce è cruciale nel trattamento del tumore al pancreas, poiché le opzioni terapeutiche sono più efficaci nelle fasi iniziali della malattia. Nel complesso, una maggiore consapevolezza dei sintomi del tumore al pancreas può portare a diagnosi più precoci, migliorando le prospettive di trattamento e sopravvivenza per coloro che ne sono affetti. È fondamentale prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e non esitare a cercare un parere medico di fronte a sintomi persistenti o preoccupanti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.